Ciao a tutti ragazzi sono Fakos Game Over e bentornati raga con un nuovo video di Dragon Ball Legends ragazzi Oggi ragazzi finalmente è uscito il Legends Festival il nuovo banner di Goku e Vegeta che tutti lo stavamo chiedendo raga da tanto ma tanto tempo ragazzi E' uscito pure ragazzi ovviamente il nuovo tracks raga io non vedo ora raga vi faccio dei video buco voi però ragazzi io raga avrei fatto forse un paio di video pure raga senza poterci un video ovviamente ragazzi ma è per giusto raga per farvi vedere raga di chi si tratta Ma prima di tutto ragazzi che andiamo avanti mi raccomando raga scelte dei tuottissimi like seguite sempre nuovi video raga sul mio canale youtube Come vedete raga c'è questo qua il banner e anche il nuovo Broly che hanno aggiunto persino il tracks e di Goku Black Coassist Per questo ragazzi vorrei farvi raga portarvi in delle multi con i ticket raga vabbè forse non so che ma raga io ne ho solo 6.322 Crono Crystals ovviamente Intanto ragazzi vi faccio vedere giusto un attimo i personaggi che ho trovato finora Allora ragazzi andiamo un attimo sui check list e vi mostrerò ovviamente i personaggi che ho trovato finora Ovviamente ragazzi ho trovato ciccia 7 che vi mancava poi ho trovato raga il nuovo Broly giustamente raga Ma la cosa più figa raga è che raga hanno aggiunto ragazzi delle cose incredibili raga sul banner Come potete vedere ragazzi c'è più 1800 di z power raga possiamo farci avanzare i livelli raga Come potete vedere ragazzi il mio budget è salito a una stella plus raga c'è anche ovviamente i Broly full power Frieza full power Troppo che mi farebbe bene ma raga spero che per voi vi va bene se vi porto un video raga con le multi raga Con i ticket ovviamente raga andiamo giusto a vedere anche i nuovi personaggi c'è pure raga vegeta 2 vuto Che a me non mi farebbe schifo però allora che io raga ovviamente ce l'ho a 3 stelle raga Poi c'è reggito blu ovviamente raga c'è tax team Ovviamente raga ci sono tutti i personaggi Ovviamente raga ci faremo questo paio di ticket raga Con i legends festival raga che vi dirò anche raga quali personaggi mi mancano Allora soltanto tax maia assist e demo kick piccolo Ovviamente raga ci hanno aggiunto ovviamente pure delle nuove extreme L'extreme raga che vorrei trovare ragazzi è di Goa Super Saiyan di secondo livello raga Ve lo faccio vedere un attimino Aspettate ecco raga proprio lui Soltanto raga lui mi manca da trovarlo Ovviamente io raga giro by lo ne lo sono trovato ovviamente Ma va bene così ragazzi Intanto raga diamo con queste multi ragazzi Tutto ragazzi ho fatto ovviamente i downloadi che raga c'è il nuovo raid di Broly De Fime raga io l'ho fatto tutto E raga devo recuperare un paio di Sono qui sta settimana di portarvi ovviamente Che raga ne avevo ovviamente ragazzi 10.998 raga ero quasi arrivato a 11.000 Comunque ragazzi mi sono uscite Spede del drago ovviamente ce lo vede E' puroso 7 ha sponato ovviamente ragazzi Spero tanto che il mio desiderio verrà esaudito ragazzi Perché lo voglio tanto trovarne Questi due passaggi che mi mancano Anche il mio Ex-Team Andiamo Goku Super Saiyan 2 No Ex-Team sbagliato Dai forza gioco E dai non l'ultima staccia proprio Non era bene Goku proprio quello sbagliato raga Non era quella raga che avevo detto Non mi fata Prossimo raga giro con i ticket raga Spero soltanto che Per voi raga vi va bene stesso se vi porto raga questo Delle multi Delle multi ovviamente raga con i ticket Ma guardavo il formato di più Che non questo se ce ne prendo Come se Vabbè Tanto 5 speste E arriva Vegeta Vabbè Però Il Guan Non me l'ha dato E voglio avere quel Guan Ex-Team Super Saiyan 2 Raga che è proprio Fico raga Dai No 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 Vai Oh Fake out Che ho lì fa Super Saiyan 2 No 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 Nuova cielo raga Raga Nello scorso video che l'aveva notato Uy E a chi dè Un secondo fake out Cacusa Mamma mia che schifo Mi disperza Ma è raga Cacusa Abbiamo 4 ministrale Nuova cielo Vabbè 7 stelle ci può andare Schifo Non fa Vabbè ragazzi Proviamo a fare Un altro giro Vediamo se riusciamo a trovare Raga Perché io raga Lo vorrei tanto trovami Quei personaggi Uuuu Attenzione Goku Super Saiyan 2 E 3 Space Ford Qua ragazzi Mi darà due Ovviamente Che due spazio Ovviamente Anche questo ci stava proprio Ok Goku lo batte No va bene lo stesso Una volta Dammi Tax E mai assist E demon kick Amigo Questo è 14 stelle No Black Goku Super Saiyan Rose Vabbè Terza Il guà sbagliato Le spalchi Non è proprio lui Che avevo in mente Eh Deveva Vazionato un po' di stelle Ma va bene Raga Dunque Siamo a 6 minuti Raga Vabbè Raga Non a lungo Raga Dopo questo video Perché Raga È pure Mezzanotte Io vi portavo Vi portavo soltanto Questo video Per farvi sapere Vabbè 5 Space Ford Era ovvio Perché io Ragazzi Ovviamente Vorrei trovare Lo stesso Ovviamente Farevi queste Muti Se non Riteggo Raga Ovviamente Vi spagno Più Le Chrono Crystals Non riuscirò Ovviamente Ragazzi A trovare I personaggi Che c'è Poi ragazzi Mi aveva dato Legends Limit Mi ha dato Gogetta Pro Raga Che io Raga Non sono Stellato Raga È una Stella Plus Forse La vatte Non tanto Intanto Goku Super Saiyan God Super Saiyan Raga Mi sto facendo Bello Stellare No tabula Dammi In colla Ma Pocca Poglia Fake Out E C'è Skip Cicciotto No Ma Per favore Gioco Vabbè Mi stare Pura Una Stella Plus Mi piacere Quasi Cicciotto Saliva Quattro Stelle Maduro Gesù 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 Mio Vabbè Ragazzi Scusate Se questo Video Non viene La Luggo Raga Perché Vorrei Tenere Lo stesso Di Spagnolo Crono Di nuovo Ce lo Vede Con Space Pod Ma Va Bene Comunque Ragazzi Ve lo Volevo Portare Raga Questo Video Pure Raga Ovviamente Per i Graziavi Ovviamente Raga Il supporto Di 11 11 Raga Di iscritti Per i Graziavi Di cuore Ovviamente Vabbè Raga Io ho schifo Stato Raga Non c'è Una Cacchetta Appunto Diamo Forza Un ultimo L'ultimo L'ultimo Quest Siamo 8 Minuti Vabbè Non è Molto E poi Vi farò Vedere Coggetta Se prima Nel video Non l'avete Visto Non c'è Non c'è Nacca Poco Sapevo Mi sapevo Ce lo Vede Nacca Poco Ti prego Ti prego Salta fuori No Tulles Salta fuori Goni Salta fuori Salta fuori No Potessi Vuoi uscire Fuori E Porca Di Quella Vacca Boia Niente Ragazzi Sono stato Sfortunato Vabbè Ragazzi Io Chiudo Qui I video Ovviamente Ragazzi Perché Ragazzi Non mi importa Se Non l'abbiamo Fatto Ragazzi Ma era giusto Per farci Video Multico Ovviamente Ragazzi Vi porterò Ovviamente Ragazzi Dei video Delle Multico Spero Tato che Gocco E Vegeta Me lo danno E tata Ragazzi Vi faccio Vedere Ovviamente Il mio Ragazzi Gocgetta Blu Come vedete Ragazzi E' salito Una stella Fasse Ragazzi Comunque Ragazzi Sf Bellissimo E figo Ovviamente Ragazzi Poi Ci hanno dato Delle slider Vi faccio Ragazzi Un attimo Vedere Nelle Change Shop Ragazzi Prima che Chiudo Che ci hanno dato Il festival Raid Ragazzi C'è quello Di Gori Ragazzi Io ho appena Preso Tutte le Cronochristas Che ce l'hanno Dato Ragazzi Durerà Soltato Quattro giorni Legends Festival Qua C'erano Un bel paio Di queste Festival Blood E Golden Ma Gli ho spesi Per alcune Dei Slive Nuovi Poi Ragazzi Per i Potenziali Degli Zeccai Poi Raga Gli ho spesi Tutte Per qua Il Legends Ticket Che ci abbiamo Portato Nei video Ovviamente Ma prima che Chiudo Ovviamente Ragazzi Vi farò Vedere Il nuovo Broly Ragazzi Che è stato Bello Potenziato Ovviamente Ve lo faccio Vedere Per bene Pure Quattro Cavolo E strafuote Io mi sono Scordato Di farvi vedere Le due Nuove Extreme Ma ora ve le faccio Vedere Allora ragazzi Ovviamente Ragazzi Ce l'ho a Quattro stelle Ed è ottimo Qua fa Ommettare Ovviamente Le strike Qua Ovviamente Saga Può mettere Movi Ovviamente Tag Isayama Fire For Surpresa Power For No Ovviamente Poi ragazzi Attiva Ovviamente L'Explosion Blood Rest Ovviamente Ragazzi Ommettare I Kid Treta Peccetto Che È una Figata Suda Poi Prevedendo La Main Ability Fa Attaccare Le basse Strike Ovviamente Farebbe Ommettare Un po' I 4% Dei Fritti Danni Delle Strike Che qua Ragazzi Richiede Un botto Di roba Che comunque Ragazzi Ovviamente Mi sono Trovato Il Goku Qua Quattro Cura Non Sono Fatta Quattro Stelle E Questo Piccolo Ragazzi È Molto Bene Siamo Ora A 12 Minuti Buono Però Dai Pena Lugato I video Ovviamente Nello scorso Video Mi ero Rituato Giren Exting Comunque SfW E poi Mi sono Sbloccato Ovviamente Ragazzi Vegetta Uta Ragazzi Poi Ci farò Una guida Ovviamente E Come Ragazzi Ovviamente Prima che Chiudo Mi sono Pure Ragazzi Un attimo Dimenticato Di farvi Vedere I Nuovi Extreme Ragazzi Adesso Ve li Faccio Vedere Io Raga Devo Farvi Anche Vedere Per L'altro Oggetto Ovviamente Allora La nuova Extreme Ovviamente È Il Final Form Frieza Ovviamente Che Bellissimo C'è anche Pure La nuova Extreme Di Iman Voglio Farvela Vedere Ragazzi E Uno Spettacolo Ragazzi Ma È Bellissima Assurda Ragazzi Vi Ringrazio Ovviamente Per Quello Blu Extreme Ma L'Extreme Ragazzi È Molto Bella Comunque Ragazzi Ci sta Un Botto Ragazzi Vabbè Ragazzi Io Chiudo Quei Video E Vi Ringrazio Ovviamente Per Avermi Dato Il Vostro Supporto Vi Ringrazio Ovviamente Ragazzi Per Avermi Ovviamente Dato Sempre La Vostra Fiducia Ovviamente Vi Sono Sempre Piaciuti I Mie Video E Vi Grazie Di Qua Ma Ma Qua D'Avo Affamato Ragazzi Un Bessacco Di Crono Ci Faremo Una Marea Ragazzi Di Multi Proprio Della Madoria Assunta No Quei Ticket Che Ci Siamo Appena Fati Ma Dittate Ragazzi Quelle Multi Ragazzi Che Potremmo Stellarci Ragazzi Personaggi Vabbè Ragazzi Io Chiudo Qui I Vide Vi Ringrazio Di Quale Ovviamente Vi Avremi Dato Il Vostro Supporto Spero Tanto Che Il Video Vi Sia Piaciuto Mi Arcomando Ragazzi Ovviamente Iscrivetevi A me Se Avete A Qual Lato Con I V Detto Con I Vostri Amici E Noi Ci Vediamo Per Un Prossimo Video Ciao